questa è la seconda parte del video termo cammino fai da te da come potete vedere il fuoco arde vicino alla serpentina fatta in acciaio in questo momento i radiatori sono a 52 gradi di precisi l'acqua si vuole c'è in poche parole circa questa è l'uscita del radiatore a 52 gradi in questo momento ci ho accesi un termo arredo e quattro elementi radianti da sei elementi cada uno il fuoco acceso da circa 45 minuti e vi ripeto 52 piccola 2 in questo momento 52 piccola 2 e la temperatura per ricordare sempre gli altri amici che adesso non hanno visto il primo video c'è un passo espanso sul tetto in tal caso si blocca il circolatore o va via la corrente interviene in base di espansione che mette subito acqua fredda nel circuito ecco qua 52.6 in questo momento è il ritorno del calore che si permette di nuovo nella serpentina io penso che è l'uscita saranno in circa 70 gradi 65 70 gradi più o meno non l'ho mai visitato arrivederci